La nave Mare Ionio, del progetto Mediterranea, non potrà più effettuare operazioni di soccorso fino a che non si adeguerà alla normativa di settore, secondo quanto disposto dalla Guardia Costiera. Esulta il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, l'Alto là è un'ottima notizia, grazie alle capitanerie di Porto. Non molliamo e passiamo dalle parole ai fatti. La Guardia Costiera ha vietato all'imbarcazione Mare Ionio, del progetto italiano Mediterranea, di effettuare attività di ricerca e soccorso, a rimare, almeno fino a quando l'imbarcazione non si adeguerà alla normativa di settore. Una decisione presa al termine dell'ispezione che i militari della Guardia Costiera hanno svolto sull'imbarcazione dopo il suo rientro nel porto di Marsala la scorsa settimana. L'ispezione è stata effettuata lo scorso 19 aprile a seguito di una avaria non meglio precisata ad un generatore per verificare le condizioni di sicurezza della navigazione e per convalidare nuovamente la certificazione necessaria alla navigazione nelle acque del Mediterraneo. Dopo l'ispezione, secondo quanto riferisce la Guardia Costiera, il comandante è stato diffidato dall'eseguire operazioni di salvataggio in modo stabile ed organizzato fino a quando l'unità in questione non venga adeguata alla normativa di settore, DPR 435-91 e regolamento di classe, e certificata per il servizio di salvataggio. Adeguamenti che sarebbero necessari per non mettere in pericolo le persone assistite e lo stesso equipaggio. Inoltre, la Guardia Costiera ha sanzionato Mediterranea per alcune irregolarità di bordo riscontrate sulla nave. Arriva immediatamente il commento del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dopo la diffusione della notizia della difida per la nave del progetto Mediterranea, dopo lo stop agli sbarchi e le direttive per difendere le acque territoriali, è stata bloccata la mare Ionio. Si tratta della nave dei centri sociali che pretendeva di dettare leggi nel Mediterraneo anche grazie ad alcuni parlamentari eletti con i 5 stelle come De Falco. L'Altolare ha un'ottima notizia, grazie alle Capitanerie di Porto. Non molliamo e passiamo dalle parole ai fatti. Mediterranea Saving Human, dopo la notifica da parte della Guardia Costiera della Difida, parla di un atto dal solo scopo intimidatorio e irricevibile dal punto di vista legale in quanto la mare Ionio è un rimorchiatore e nave da carico della Marina Commerciale Italiana che svolge attività di monitoraggio e denuncia delle Violazioni dei diritti umani, pattugliando il Mediterraneo centrale Non solo abbiamo tutto il diritto, ma il preciso dovere, fissato anche dagli articoli 489 e 490 obbligo di salvataggio del Codice della Navigazione, di intervenire in soccorso di imbarcazioni e persone in difficoltà al fine prioritario di salvare vite umane